AXIS Deciso di partecipare a questo evento? AXIS non poteva mancare a questo evento. Maiston è l'azienda leader nel settore del video management, del video su IP e si può dire che il percorso di Maiston è stato parallelo a quello di AXIS perché AXIS è stata la prima azienda al mondo 15 anni fa a fare la prima telecamera IP e Maiston è stata la prima azienda a credere in un software di gestione video per cui la crescita esponenziale che c'è stata del mercato del video su IP in questi 15 anni l'abbiamo vissuta in parallelo e insieme. Una partnership quindi che ha portato valore aggiunto e beneficio sia dalla parte di AXIS che dalla parte di Maiston? Assolutamente sì. Tra l'altro la cosa più interessante da sottolineare è che Maiston è un open platform ovvero supporta moltissimi brand di telecamere e AXIS da sempre ha fatto l'idea che per essere vincenti bisogna essere integrati da tutti. Quindi anche noi siamo supportati anche dai concorrenti di Maiston come Maiston supporta tra virgolette i nostri concorrenti. però entrambi continuiamo a essere leader e la maggior parte delle installazioni di video su IP vengono fatte con telecamere AXIS e piattaforma Maiston. Come si rimane leader diciamo in un mercato, in un settore così complicato e variegato come è quello del videocontrollo? Io direi che ci siano più fattori. Il primo è sicuramente comunque quello tecnologico perché per quanto si parli di altre logiche, di mercato, alla fine la tecnologia è la cosa fondamentale e noi continuiamo a essere leader perché produciamo il chip che è il cuore della nostra telecamera su cui costruiamo nuovi prodotti sempre più performanti. Ma vorrei dire anche per la politica di canale. Noi abbiamo una politica di canale molto rispettosa di tutti gli attori che lavorano con noi con regole molto chiare e uguali in tutto il mondo per cui alla fine la chiarezza e l'uniformità nell'azione in tutto il mondo crediamo che nel medio e lungo termine paghino sempre.